Ora, io la darei prima a l'onorevole Francesco Pinto, al senso del pronunciato, eh? Sì, allora, buongiorno a tutti, io cerco di avere un particolare cittadale, anche perché a questo punto il desiderio di essere concreti e di passare dalla votazione della mozione che, contentamente dalla Presidente, ha già l'ammesso a tutti i treventi. Io voglio anzitutto ringraziare il signor del Consiglio Comunale di Latoria, ma appunto il Consiglio Comunale, per il dito che ha rivolto questa mattina qui a queste inizioni sovracomunali che ha rivolto a essere presente in questa mattina, di lavorare del centro. Io porto il saluto del Presidente della provincia di Napoli, che mi trovo un grande rapazio con me, con tutti i treventi, e mi scopi di essere presente, manifestare questa attenzione, ma a essere iniziatore, la vicinanza della politica politica inizionale della provincia di Napoli. Aspetto a questo, a questo attrazzare questo percorso che si chiede a rimettere in campo, più personalmente, anche da dentro di una comunità di parte della Catoia, compreso qui nel fondo le difficoltà che vive in un territorio, quando si vede in una situazione del genere, che comprende la situazione anche sovrappente di Dacia o Dacia, di grandi lavoratori che sono qui a Catoia, che non tutti hanno dimostrato che avere talento, competenza e capacità. Quindi, è il dovere della politica stare insieme iniziatore, fare delle decisioni, ma soprattutto avere la notizia di essere in campo proposte concrete, fatta una organizzazione di determinare lo sviluppo del combattimento industriale e delle loro ragioni. Ed è paradossale che questa scelta accadda proprio in questo momento. Proprio in questi giorni era, per l'appunto, nel guardare una trasmissione definitiva con una grande società nazionale, la FILE, che è una società finanziata da tutti gli industriali, che fa analisi sui russi economici, sulla situazione dell'industria ed economica, ha fatto un'analisi, ha detto, in una condizione di crisi del sistema del paese, il futuro, anche, diciamo, dell'Ord, è legato al futuro del Mettogiorno. Cioè, la crisi del Mettogiorno d'Italia, lo ha dato un tipo di rinzerro paese, per cui, ovviamente, la riconfusione da facevano una tante sistea, che è riconfusione in questo momento di istituzione, di programmatio, sui servizi concreti di FILE, del Mettogiorno, e, particolarmente, cominciato da raggiungere, sono una piante di dati industriali del Mettogiorno, che diventavano retrati per il sistema paese. E' parezzato che, in questo momento, la prima di questi dati, una valutazione del Mettogiorno tra l'Italia verde, di spostare la propria città di Mettogiorno, che sono, da parte, come incontro del Mettogiorno, non soltanto alle nostre volontà, ma come incontro del Mettogiorno, quelle che sono delle politiche del Mettogiorno, del Mettogiorno, dell'Italia verde, della realtà quale viviamo. Quindi, soprattutto, su parti concreti, con analisi chiare, che noi possiamo muovere questa lotta. E in questo momento, in questo momento, che non sia qualcuno alimentare aspetti con le posizioni politiche perché se oggi facciamo il mondo solo alla scelta delle responsabilità, perché non lo rendiamo in buono del mondo, al terreno di un'efficacia, sono questi momenti eseguati, sono qualche deliziazza della campagna o della città che deve avere la capacità di difendere dei ragioni del sviluppo di questo detto, non è di difendere di cittadini, di cattolica, di lavorazione di questo detto, ma in modo particolare la città della campagna, però per tutte le cose che non servono il sviluppo sempre, perché non lo rende, non sono le posizionalità, non sono le competenze, non sono le competenze, bisogna essere uniti per rassumire il progettivo finale e allora il processo faccio unitico a tutti, cerchiamo tutti di rinunire, viene alla riflessa del consenso piccolo, di voler alimentare l'antipolitica, di cerca di trasferire il domico, trasferire il mondo personale, questo è il momento in cui la politica in modo rispondabile deve essere uscita e deve fare la proposta e deve essere raffiato nelle ragioni della campagna e del giorno dei dati. Per voi, io concludo solo, ho letto ovviamente la menzione del manifestante, ovviamente, da posare disponibile alla condivisione, come ho detto, nel momento in cui si dà mozione, quindi in baricola, in grado alla provincia di Nato e invito ovviamente a procedere certamente in questa direzione per fare la base nostra. Grazie a tutti! Grazie a te, a te, a te, a te, a te. E allora, a Roma di Roma di Roma!